Ti alzi, ti prendi un caffè, ti fumi una sigaretta, vai a lavorare, finisci di lavorare, torni a casa, mangi, ti prendi un caffè, ti fumi una sigaretta, vai a dormire. L'indomani ti alzi, ti prendi un caffè, ti fumi una sigaretta, vai a lavorare, torni a casa, mangi, ti prendi un caffè, ti fumi una sigaretta e vai a dormire. Oh ma alla fine quanto cazzo si tromba qua?